I ragazzi tornino a scuola, un passaggio necessario per favorire socialità e normalizzazione nei processi di crescita nei tempi duri della pandemia. E' l'appello del prefetto di Avellino, Paola Spena, che invita i sindaci a collaborare per il ritorno delle lezioni in presenza. Ma da Avellino per le superiori si continua in DAD, come in molti altri comuni, dove i sindaci scelgono la via della prudenza, temendo nuovi contagi tra i banchi. Anche la prossima settimana continueranno le lezioni in DAD per le scuole superiori. Ho intenzione di convocare una riunione anche con i rappresentanti degli istituti superiori, perché credo che in questa fase, mai come in questa fase, sia fondamentale un confronto anche con i ragazzi per abituarli a prendere le decisioni in un momento in cui si decide del loro presente e del loro futuro. Intanto in mattinata comitato per l'ordine pubblico, in cui si è parlato proprio del ritorno spinto in presenza dalla prossima settimana. Ma soprattutto dei controlli per la partenza della zona gialla. Annunciati controlli a tappeto in ristoranti, bar, pizzerie. Sul fronte dei contagi intanto è allerta in Valle Caudina. A Cervinara si contano attualmente 83 positivi, 49 arrotondi, di cui 10 bambini, 28 a San Martino, Valle Caudina. In tutta la provincia l'indice di positività intanto è al 10,42%. Ieri un altro decesso all'ospedale Frangipane, dove è morto Rodolfo Cardinale, 74 anni, dipendente regionale in pensione, ma soprattutto grande appassionato di calcio e talent scout.